L'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, senza ricevere i ristori dal governo, è riuscita a reperire 14 milioni di euro e ad ottenere l'approvazione di bilancio 2022. È un passo importante per guardare avanti, con fiducia ed ottimismo, al rilancio dei porti di Roma, dice il presidente Mussolino. Ora attendiamo i ristori. Con i fondi reperiti anche per questo bilancio di previsione, nel corso dell'anno solare, questa autorità di sistema portuale, senza aver ancora ricevuto un fondo e un ristoro dallo Stato, ha recuperato 14 milioni di euro di tagli e razionalizzazione della spesa e miglioramento complessivo dell'assetto e della struttura del bilancio. Questo è un risultato, direi, unico che tutti come territorio possiamo appuntarci al petto. Pochissime altre autorità e credo quasi nessuna ente locale è riuscito nel corso di un anno a reperire 14 milioni di euro senza aiuti esterni. È evidente che questo è un ulteriore tassello nell'opera di risanamento e di ripartenza e rilancio dell'amministrazione dello scalo, e quindi dello scalo nel suo complesso, degli scali nel loro complesso, perché noi dobbiamo ricordarci sempre anche di Fiumicino e di Gaeta. Però è anche un elemento che ci permette adesso di dire con la dovuta credibilità, cara Italia, devi finalmente guardarci, non come figli astri, ma come figli legittimi. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e che potevamo fare nel rispetto delle regole e nel rispetto delle norme dell'ordinamento. Adesso è arrivato il momento, e come pare il Parlamento sta convertendo il decreto in questi giorni, queste ore, che arrivino finalmente questi ristori dopo quasi due anni di pandemia che oggettivamente hanno avuto un impatto significativo sulla tenuta complessiva nel breve periodo dei conti dell'ente.